Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Gwendalina Tavassi racconta in aula le violenze subite dall'ex marito Umberto da Ponte, nel corso del processo per maltrattamenti in famiglia. Mi ha inseguito con una mazza da baseball e mi ha preso a bastonate in testa, una volta mi ha persino rotto il naso lanciandomi addosso le chiavi dell'auto, per convincermi a non lasciarlo, ha finto di avere un attacco epilettico davanti ai nostri figli. Ha esordito così Gwendalina Tavassi, influencer, ex opinionista di Uomini e Donne e naufraga della scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, nel corso del processo che vede imputato a Roma, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e danneggiamento, il suo ex marito. L'imprenditore 38enne Umberto da Ponte è stato messo in galera, dove è rimasto per tre mesi, per aver violato un ordine restrittivo ed aver picchiato il nuovo compagno della Tavassi, davanti all'ingresso della scuola di uno dei figli. Il figlio Sasi ha assistito al litigio. Il bambino ha implorato il padre di fermarsi. Lui faceva cose pericolose e non sapevo come fermarlo. Una volta mi ha rotto il naso lanciando le chiavi della mia auto, sanguinavo, e mio figlio ha chiesto aiuto ai vicini orlando. Mamma sta morendo. Mi volevano ricoverare, ma sono voluta tornare a casa. L'influencer è preoccupata per i danni morali che i suoi figli potrebbero avere. Loro sono sempre stati presenti ai nostri litigi. In particolare Sasi è scioccato, anche se io ho sempre provato a sminuire per non turbarli. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Per restare aggiornato, iscriviti al canale.